ciao benvenuto al consueto aggiornamento tipico con che succede con l'indicatore volt time per quanto riguarda il MIB il MIB continua ad essere l'indice che dà più soddisfazioni ormai da un anno perché veramente molto preciso nel rispettare le analisi quindi le date quindi vuol dire che questa media del ciclo da 20 giorni che di 18 per male sono un po allineati gli indici in questo momento è veramente molto precisa e lo vediamo non tanto dalla sinusoide ma dalle date perché le date sono quelle che ho inserito e non tolgo mai arrivato a un certo punto dopo un po di mesi sono obbligato a cancellarle perché metà trader ha un limite oltre a quale non me ne fa più mettere ok però in questo caso abbiamo circa sei mesi giusto 7 mesi di analisi ed è che si vede bene come sia stato molto preciso tranne qua per intenderci dove il mercato non ha fatto discesa poi qui era previsto un minimo è andato poi successivamente ad agganciare questo come minimo e quindi è stata una previsione errata il mercato sarebbe dovuto scendere fino a 20 di luglio però per il resto le date sono tutte corrette con la debita variante quindi cosa dobbiamo aspettarci ho già preso le medicine grazie cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni la fase di salita è quasi giunta al a questa trend line del ciclo da 40 giorni o che indicatore identifica i massimi 15 da 40 giorni tracciata questa ma possiamo ancora tenerla la quasi raggiunta e direi che il mercato ormai ormai dovrebbe andarla a prendere di certo non c'è niente in questo mestiere però visto che manca davvero poco potrebbe essere un'area di target però e non non vieta che possa esserci una rottura della trend line che in questo caso la rottura sarebbe qualcosa di molto molto interessante no non andrebbe preso in considerazione direi e poi in caso di rottura vedremo poi eventualmente mercato cercare di andare ancora a vedere i massimi del 20 settembre qualunque non si va più da un punto di vista statistico poi il mercato potrà farsi anche ancora che ne so 300 punti 400 punti mille punti per andare a rompere i massimi di luglio ok i massimi diciamo li chiamiamo assoluti anche se assoluti non sono stati ok però noi sicuramente short e long e non andremo più a cercare abbiamo il picco previsto per il 4 di novembre che ovviamente andrà spostato di un giorno perché sabato e domenica non ci sono quindi diventerà un 5 di novembre scusatemi ma la gamba per la schiena e 4 barra 5 di novembre quindi ripeto long non si va più si perde un treno ok ma qui bisogna iniziare a cercare delle indicazioni che il mercato ci dica ok prendo la fase di ribasso che quella che su base statistica e probabilistica il mercato dovrebbe andare a prendere prima di andare avanti come sempre ti chiedo il like sul mio hai fatto un pozzo di soldi se guardiamo anche solo l'ultimo mese ti sei preso tutta la salita tutta la discesa e tutta la salita ok quasi al giorno quindi un like direi che è il minimo che mi possa aspettare invito anche qua in alto a destra dalla tua sinistra in realtà e no alla tua si destra guardando lo schermo di e ti invito a andare a cliccare sulle schede per accedere ovviamente a quelli che sono i miei servizi troverai comunque anche tutti i link sotto in descrizione servizi che trovi sul sito il trading per tutti un punto com sito che è attivo dal 2007 in realtà un paio di anni non un anno dopo forse si chiamava il trading per tutti chiocciolo altervista.org era ancora ospitato sul nostro gratuito e all'epoca proprio all'inizio dove mettevo le mie analisi nei corsi basi mi ricordo il corso di di fibonacci avanzato tutte queste cose qua di napoli eccetera invito a registrati al canale telegram gratuito ogni giorno riceverai una tra le analisi su dax nasdaq down jones s&p e gold sia ciclo che volumetrico ovviamente il segnale intraday sugli indici anno che sta andando molto bene non ho ancora aggiornato mannaggia devo farlo domani il qua abbiamo preso due stop come inizio mese scusatemi la mia facciona due stop come inizio mese è un po un classico io parto praticamente sempre e quasi sempre negativo come nelle prime due operazioni uno stop da 60 e uno da 80 mi pare su il nasdaq e per quanto riguarda la giornata di venerdì vedete che qui non è ancora invece aggiornato novembre puoi anche bisognava comunque tutti i punti fatti dal 2021 quando iniziato ad aggiornare il sito ad oggi con le chiusure annuali e semestrali 2021 chiuso con bu deve fare il conto così tipo quasi 4.000 punti il 2021 il semestre 2022 chiuso con 6.000 7.000 punti i 23 sicuramente è meno ricco siamo a 1230 punti più quelli fatti finora non arriverò sicuramente a fare i numeri del 2022 proprio assolutamente no è possibile però rimane comunque un anno positivo nonostante qualche mese dove alcuni degli strumenti che trado si sono chiusi negativamente indicatore volte per lavorare con il mio metodo avrei accesso l'indicatore canale telegram di supporto più ovviamente i video formativi ma se vuoi approfondire ancora di più l'analisi ciclica l'analisi volumetica quindi diventare un esperto nel prevedere il futuro movimento dei mercati e nell'identificare veramente i livelli corretti con il volume solo che hanno un valore alto solo quando siamo in presenza di un massimo di un minimo ciclico ok valore alto non dico che non funzioni nel modo più assoluto ma il valore del volume aumenta enormemente quando siamo statisticamente sul livello corretto quindi dal punto di vista temporale e puoi contattarmi o sotto al link oppure andando a cliccare qua sulla mia cittina e per poter iniziare il percorso con me il percorso one to one quindi si parla di lezioni individuali perché almeno si può adeguare la formazione esattamente sulla persona che mi ritrovo davanti quindi ci sarà il trader che ha bisogno di più tempo di meno tempo di concentrarsi più su un argomento o su un altro e solo delle lezioni individuali consentono di fare questo avrai ovviamente in omaggio un anno intero di indicatore chiedimi appunto informazioni per poter approfondire ancora di più il mio programma formativo e fare quello che vedi qua quindi che cosa facciamo adesso abbiamo purato che dobbiamo cercare delle indicazioni che ci confermino un'inversione da parte del mercato non ho trendline nuove da tracciare solo probabilmente in intraday potremmo tracciare delle trendline quindi andiamo su trading view e andiamo a cercare l'indice del MIB perché il MIB su trading view non c'è come future ma solo come indice ho tracciato ovviamente anche qua le trendline che ho utilizzato per formare i canali andiamo a levare i livelli che non servono più che il mercato sono informati quindi non ha senso tenere togliamo questo per prezzo prossimo A prossima area identificate questo qui che non so neanche perché lo metano la sigla che era qua quindi parliamo del livello tra 28.936 29.100 per quanto riguarda ovviamente parlo di indice poi c'è tutto questo mega blocco blocco perché lo chiamo blocco perché c'è un quadratone enorme quello più recente questo quindi quest'area poi qui abbiamo invece quello che non era ancora stato toccato e il risalente non so neanche quando risalente primi anni sessanta forse eccolo qua risalente al giugno 2008 fate un po voi quindi torniamo comunque al presente che è un po meglio abbiamo uno stocastico che nella terra di nessuno metà strada quindi c'è ancora spazio per un rialzo ma ciclicamente no o meglio ciclicamente siamo troppo borderline quindi come dicevo prima non possiamo fare niente possiamo solo rimanere in attesa di vedere che cosa farà il mercato se raggiungerà la trendline e che cosa farà il mercato se romperà la trendline e tirerà a raggiungere nuovamente quest'area quindi parliamo dell'area parliamo dell'area 29.250 quindi così come il DAX così come il NASE così come l'S&P rimaniamo fermi in attesa che il mercato ci dia qualche indicazione ricordiamoci sempre io sono il primo vedi venerdì che un trader me lo poteva risparmiare che la maggior parte dei giorni non dobbiamo fare operazioni e dobbiamo fare operazioni solo quando c'è il modo di fare operazioni quindi questo è uno di quei momenti in cui le operazioni non vanno fatte non si deve comprare perché ha fatto quattro giorni di rialzo perché da pirla così come da pirla vendere perché ha fatto quattro giorni di ribasso il mercato bisogna attendere delle conferme che al momento seguendo la statistica dell'analisi ciclica non abbiamo per un ingresso short quindi rimaniamo fermi ci aggiungeremo ci aggiorneremo in settimana per cercare di cioè per aggiornare l'analisi e vedere se ci sarà qualche novità da un punto di vista dello spunto per un ingresso al mercato con questo è tutto buona domenica sera e dite una preghierina per la mia cagnolina che ha la poveretta alla pancreatite preghierina un pensiero è più che accetto e basta fine così buona domenica alla prossima ciao ciao